Pronto, qual è la situazione? Stor, arrivando, sono qua sul tetto, ho perso l'arma mentre salivo, passo e chiudo. Stor, arrivando. Sono bloccato, aiutami. Sto arrivando, tieni duro. Creco, bastardo! Ehi, ehi, tutto bene? Sì, tutto posso. Ok, andiamo a prendere il resto di quei bastardi, sono barricati nella stanza centrale. Andiamo, scarichiamo i dati e via. Ok, pronti a fare irruzione? Entro io per primo. Ok. Ok, tieni a me a me e difendimi mentre io scarico i dati. Oh, ma che succede? Ok, vieni qua! Vieni qua, vieni qua, mi faccio saltare il cervello. Vieni qua, abbassa l'altra, vieni qua. Basta, abbassa. Mi hai salvato la vita. No, me l'hai salvato tu, comunque il perdone è completato, prendi la chiavetta e ce n'andiamo. Ok. Tutto troppo tranquillo. Flashbanger! Credo, credo! Cosa è successo? Sei ferito! Cosa vuoi fare? Devo portarti via! No, resto qua. Tu vai, continua senza di me. Ma, ma cosa... Ma, ma cosa... Come, vai, va? Cacchio, finiti i colpi! Sì, è della merda, guarda! Oh, cazzo! No! Cacchio, stanno arrivando! Un esercito intero! Ma, ma, ma perché? È chiuso! È chiuso! Siamo l'ambore che ti gira! Voi siete entrati in mio paese! Avete, avete ucciso i miei uomini! E avete ancora coraggio di chiamare noi terroristi! Ma, ormai, la vendetta è pronta! La bomba è stata piazzata, tutto pezzo di merda americano! Tu, uccidilo! Dimmi dov'è la bomba! Dimmi dov'è! La bomba è già piazzata! Dovrebbe esplodere! Sì, nella merda americano! Ah! Ah! Woah! Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti.